Mister Amato, buonasera innanzitutto, una buona prestazione del Vico, in vantaggio anche il Vico con il rigore segnato da Giallo e poi al novantacinquesimo arriva il pareggio. Diciamo che abbiamo giocato più di mezz'ora in dieci uomini, avevamo retto benissimo, i ragazzi veramente sono stati ingomiabili e hanno fatto una grande partita contro una grossa squadra, però purtroppo abbiamo preso un gol su una palla per distrazione perché bastava stare un attimo attenti e magari non lo prendevamo, però giocare mezz'ora e più contro una buona squadra vuol dire che qualcosa di buona cominciamo a fare, è un punto importante, può darsi che sia il punto che ci faccia riprendere un po' di coraggio perché era importante soprattutto avere una prova di carattere e fare il risultato. Ci sono stati entrambi, ma questa settimana sono arrivati, abbiamo recuperato i giocatori, sono arrivati i calciatori. Adesso bisogna soltanto mettersi a lavorare per cercare di far crescere l'insieme di squadra. Giallo e Quinterno appena arrivati, è soddisfatto della loro prestazione visto che li ha subito schierati? Anche perché avevamo problemi con qualche infortunato, poi ragazzi che venivano già allenati, quindi il problema non c'era, però ripeto, finalmente abbiamo trovato un attaccante che ci dà respiro, quindi è una cosa importante per noi, perché abbiamo ragazzi bravi ma inesperti, giovani, perciò Carlos è un giocatore importante e l'ha dimostrato oggi. Anche se l'unico rammare è che dopo il rigore c'è stato un arbitraggio a senso unico, il braccio sempre in una sola direzione c'era, gli ha permesso di tutto e di più. A noi, al di là di che condanno perché non si possono prendere le espressioni come quelle che ha preso San Nino o Leone, però ripeto, da quando ci ha dato il rigore ci ha fatto uscire più. Cioè tutto, a Carlos l'hanno riempito di botte, non gli affischiavano mai niente, non gli ha affischiato niente, gli ha affischiato dopo un'ora di partita, quindi vuol dire che qualcosa anche a questi livelli c'è da rivedere negli arbitri, perché non si può arbitrare in questo modo, ammonire solo la squadra di casa, la squadra ospite, no. Un pareggio amaro? Amaro perché è arrivato nel momento che era finita la partita, ormai avevamo chiusi tutti i parchi, Soltanto una disattenzione, forse dovuta anche alla stanchezza, perché i ragazzi a giocare due partite come abbiamo giocato mercoledì, oggi sempre in periodo della numerica, non è facile, quindi bisogna avere pazienza e partire da questo punto e da questa prestazione per cercare di risalire la ghina. Grazie mille. Grazie a te.